La Federazione Galattica di Luce conferma di aver dato luce verde. Traduzione Sebir Blue Blobspot. Fonte Pao Web. Shell Danidel, 4 luglio 2012. Il momento per le modificazioni è su noi tutti. Il cielo si è spostato sulla Terra e ha decretato, che il tempo per la liberazione e per la libertà è arrivato. Così siamo moralmente obbligati dall'onore a venire avanti sulla Terra e da far fronte, in tutta diligenza, a coloro che, in fretta e in arroganza pura, hanno dimenticato che sono solo padroni temporanei di questo regno tra i più magnifici. Il nostro arrivo è quello di rendere a loro questi punti assolutamente chiari e di spianare la strada ad una nuova epoca per l'umanità della Terra di superficie. Quasi tredici millenni fa, cominciaste a cadere nel mondo inquieto della coscienza limitata. Si tratta di un pianeta in cui è diventato relativamente facile, per i vostri nuovi dominatori e i loro tirapiedi addestrati, controllarvi e manipolarvi. Questo tempo sta rapidamente giungendo alla sua fine divina. Le azioni sono già iniziate, e consistono nel costringere quelli che hanno governato per tanto tempo questa Terra, impunemente, a lasciare andare le redini. I nostri team di collegamento e i loro numerosi sacri compagni stanno lavorando sodo per completare i programmi, che rivitalizzeranno il vostro mondo, un mondo in cui state per essere rimessi in libertà, e dove, con un intento divino, potete concludere il vostro viaggio verso la piena consapevolezza. Noi arriviamo ora a terminare un processo, che assisterà i nostri alleati terrestri ad espellere parecchi regimi politici attualmente controllati dalla cabala. Questo permetterà di posizionare un nuovo tipo di governance che, insieme ad un nuovo sistema finanziario, dirogherà un periodo di abbondanza. Inoltre, questa nuova dirigenza introdurrà e applicherà tecnologie, ora nascoste, situate sulla Terra, che integreremo eventualmente con le nostre per darvi un tempo di pace, di prosperità e di cooperazione internazionale senza precedenti. Veniamo a presentarci a voi con una ricchezza di conoscenza, che vi libererà dalle stupide menzogne e dalle false dichiarazioni dei vostri, prossimi ad essere, maestri naufragati. Questa cabala è l'ultimo residuo dei gruppi, che vi hanno così mal governato, e stanno ora per essere smascherati per ciò che sono realmente. Tale cricca arrogante e malintenzionata stava progettando di spogliarvi ancora di più del santo dono di Dio della piena coscienza e di tenervi in servitù permanente. Questi piani spregevoli sono in corto circuito, come si dice, e non si concretizzeranno mai. La nostra missione qui è in ultima analisi in relazione al primo contatto. Siamo venuti da lontano per svolgere le disposizioni divine del Signore Surea il Cristo, e per portarvi il conforto sacro dalle più alte sfere del cielo. I grandi Serafini di Aeone hanno benedetto voi e noi con una grazia divina, che porterà avanti una nuova era sulla Terra. Questa nuova epoca introdurrà una realtà di quinta dimensione e un tempo di piena coscienza per Gaia e per i suoi molti popoli. Molto tempo fa, noi della Federazione Galattica abbiamo colonizzato questo pianeta e generato ciò che voi chiamate principalmente Lemuria. In questa magica Terra noi abbiamo prosperato, sia sopra che sotto la superficie. Questa alta cultura ha vegliato l'essenza sacra di Madre Terra e dei suoi ecosistemi più diversificati. Poi un gruppo di Atlantide è stato influenzato da elementi oscuri a indurre alcuni di voi in uno stato di servitù temporanea. Degli eventi poi si sono succeduti che hanno posto questo piccolo gruppo di esseri umani in grave pericolo. Il cielo è intervenuto e ha decretato, che questi individui dovessero passare attraverso un periodo di coscienza limitata evidentemente per fattori karmici, MDT. Una simile odissea è stata concepita per essere la chiave fondamentale della pace permanente di questa galassia. Sembra che il continuo umo scuro di Ankara avesse creato una molteplicità di imperi galattici, popolati di esseri ai quali era stato negato il corpo di luce necessario per il ritorno in volontà all'integrità originaria. Il piano del cielo era quello di utilizzare, in un tempo futuro, l'amore infinito degli esseri umani della Terra e la loro saggezza acquisita per mezzo dell'oscurità per fare avanzare queste civiltà depauterate, di nuovo verso la luce. Quel tempo è ora. È il momento per voi di realizzare la vostra missione divina, ed è nostro sacro compito di prepararvi per questo servizio immenso. A tal fine stiamo usando i nostri poteri e le capacità per assicurare un mondo nuovo per voi. A questo punto, voi state per incontrare i vostri antenati lemurianie, in Agartha, a trasformarvi, immersi nell'amore e nella luce, in esseri pienamente conscienti. Così, nel vostro stato originale, sarete in grado di avvicinare i vostri nuovi protetti e, nell'amore, portare a loro il più prezioso dei doni e un corpo di luce perfettamente operante. Questo servizio divino allieta il cielo e porta l'intera galassia nella grande unicità, che è la vera luce dell'Altissimo, Namastè. Siamo i vostri maestri ascesi. Noi veniamo oggi davanti a voi con alcune informazioni su quanto vi sta accadendo intorno. Al presente, moltissimi, che sono stati silenziosamente ad osservare l'avidità e la corruzione immensa degli oscuri, stanno preparando la grande massa di prove per i loro processi. Questa raccolta di dati è stata utilizzata anche per rintracciare e proteggere le enormi quantità d'oro e di obbligazioni correlate, che i cabalisti hanno, entrambe, o illegalmente sequestrate o emesse. Queste ricchezze sono ora in nostro possesso, e i nostri vari gruppi di alleati stanno aggiungendo molti di questi titoli alle sempre più crescenti somme da distribuire, prossimamente, a coloro che saranno inizialmente i beneficiari dei fondi di prosperità. Questa operazione sta prendendo più tempo per due motivi. In primo luogo, abbiamo necessità di raccogliere, surrettiziamente, il grandioso quantitativo di denaro rubato dagli oscuri. In secondo luogo, abbiamo bisogno di compilare e confrontare le prove di come essi, con arroganza, siano riusciti a distruggere la base stessa del loro potere. Gli strati di controllo con i quali la cabala ha dominato si stanno rapidamente disintegrando, e come questi perdono la loro efficacia, la portata incredibile dell'avarizia e dell'illegalità nelle loro istituzioni comincia ad essere rivelata. Il cielo ci ha graziato con uno strumento straordinario, che ci permette di monitorare questi miscredenti, e al riguardo notiamo che coloro i quali volevano profondamente asservire l'umanità, ne sono in realtà il gruppo più incompetente. I loro numerosi errori procedurali e l'arbitrario superamento della loro autorità li hanno chiaramente condotti alle loro attuali difficoltà e alle montagne di debiti illegali, che sono la diretta conseguenza di questa sfrenata cupidigia. Così, il cielo ci ha prodigato i mezzi più efficaci per sottometterli, e la giunta della nostra terra interiore e i cugini dello spazio hanno suggellato l'accordo per l'umanità. Siamo molto grati per questo, e profondamente benediciamo tutti in cielo per i loro doni meravigliosi e per la nostra liberazione dall'oscurità. Le procedure, ora in corso, sono nella loro fase finale e così abbiamo dato il semaforo verde. Guardate a questo come il lancio di un volo spaziale, con equipaggio da cape e canaveral, dove tutto è nel conto alla rovescia finale. Molte sequenze hanno bisogno di essere completate e per strada alcuni ritardi possono accadere. Tuttavia, tutto è orientato per il decollo, una volta controllate queste difficoltose sequenze finali. Questo è dove siamo ora. Abbiamo bisogno di onestà e fiducia, e quindi vi chiediamo di usare le vostre immense energie positive per assicurare che questo lancio prenda il via come previsto. La nostra intenzione collettiva è interamente focalizzata su questo. Molti gruppi della Federazione Galattica e il personale dei nostri alleati stanno lavorando diligentemente per completare questo in tempo. Crediamo fermamente che divini eventi si svolgeranno a breve, per creare una realtà di pace, di prosperità e, soprattutto, di libertà. Oggi, abbiamo esaminato quello che sta accadendo sul vostro mondo. Le cose sono in corso e a breve garantiranno la fine della cabala oscura e dei suoi numerosi partner. Siete molto vicini ad essere testimoni di un evento meraviglioso, il ritorno della luce sul pianeta Terra. Con questo, state per completare rapidamente il vostro breve viaggio di rientro verso la piena consapevolezza. Sappiate, carissimi, che l'illimitata e infinita abbondanza celeste vi appartiene. Così sia. Selamat Gaiun. Selamat Yah. In siriano siate uno. Siate nella gioia.